Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Altro trancio di trattazione sulla dieta vegana, dieta vegana e integratori. Faccio questo video per ampliare l'argomento. Allora, parto subito con la parte più scottante, la vitamina B12. Non è un tema che sto evitando assolutamente, anzi vado dritto al punto. Da vegani è possibile evitare qualunque carenza di vitamina B12, che mi pare si chiama icobalamina. Allora, esistono persino delle aziende, che ho scoperto oggi esistere, che producono integratori 100% vegan, tra cui integratori proprio di vitamina B12. Quindi un vegano può tranquillamente accaparrarsi tutta la B12 che preferisce attraverso l'integrazione. Peraltro, integrazione cruelty free, quindi vegan ok, senza bisogno di estrarre la vitamina da corpi maciullati di bovini, suini e quant'altro. Quindi sì, da vegani si può prendere la cobalamina, la vitamina B12. Mi pare che si chiama icobalamina, spero di aver capito bene. Perché poi, quando ci si documenta sulle vitamine del gruppo B, ci sono diversi esponenti di categoria, quindi non vorrei aver fatto uno strafalcione. Quindi è possibile, per chi fa una veloce ricerca anche su Google, trovare aziende, stabilimenti, che producono vitamina B12. In merito poi alle fonti alimentari, perché magari i più puri di cuore dicono, no, ma l'integrazione è roba da convinti, roba da fuori di testa, il cibo solido. Benissimo. Da che mi risulta, la B12 si trova nelle carni degli animali che si nutrono a terra, quindi che, razionando nel terreno, brucando l'erba, assumono questa vitamina B12 che pare sia presente nel terreno. Da quanto ho capito, anzi, seguendo anche gli scritti preziosi di un mio follower, pare che una volta la vitamina B12 si potesse assumere direttamente dagli ortaggi. E che poi, per colpa delle produzioni e delle lavorazioni industriali, questa vitamina B12 si è stata col tempo eliminata dagli ortaggi. Quindi, in verità, assumere la B12 attraverso le carni animali vuol dire assumere un nutriente che sarebbe presente nel mondo vegetale, filtrato dal corpo di un animale. Quindi, anche qui, non vedo francamente il senso di accanirsi questa B12 da prelevare dalle carni degli animali, quando in realtà è presente nel mondo vegetale. Poi, che i processi industriali di lavorazione tendano a farla sparire dalle verdure, dalla frutta, questo è un altro discorso, ma sta di fatto che la B12 viene presa dagli animali direttamente dal mondo vegetale. Viene presa dagli erbivori proprio. Gli animali, cosiddetti erbivori, assimilano la B12, la immagazzinano, la sintetizzano nel loro corpo e noi, attraverso il loro corpo, la assumiamo a nostra volta. Ecco, scusate il giro di parole un po' verboso. Il discorso della vitamina B12 si può estendere anche al resto, cioè le famose proteine complete. Anche qui, un vegano ha entrambe le strade, può assimilare gli amminoacidi essenziali, tutti, attraverso l'integrazione, oppure attraverso il cibo solido. Parlando di cibo solido, c'è il pisello, il legume pisello, mi pare che sia un legume, spero di non sbagliarmi, che ha tutti gli amminoacidi essenziali. Poi, a livello di, magari, integrazione, c'è la canapa, poi ci sono dei blend vegani di riso, pisello e avena, che fungono allo scopo. Non vedo il motivo di star lì a ricombinare i cereali con i legumi, sperando di assemblare la catena amminoacidica per formare la proteina nobile. Cioè, io sono vegano da oltre sette anni, non mi sono mai neanche preso il disturbo di documentarmi sulle ricombinazioni amminoacidiche del mondo vegetale. E non intendo farlo neanche in futuro. Io non ho alcuna carenza, che io sappia, di amminoacidi essenziali. Io da vegano ho avuto i migliori risultati della mia carriera di sollevamento pesi. Parlo di carriera amatoriale, intendo, nel senso che i miei record migliori in panca piana, stacco da terra, lento avanti, eccetera, eccetera, li ho avuti da vegano. Oltre trent'anni d'età. Io sono vegano da quando ho trent'anni, oggi ne ho trentasette suonati. Quindi sono oltre sette anni che me la cavo tranquillamente senza consumare carne, uova, pesce e formaggio. Questa è la storia. Quindi, integrazione e dieta vegana. Direi che è un connubio molto felice. Un'altra cosa, i vegani, non mangiando carne e pesce, hanno un introito di creatina esogena leggermente inferiore. Quindi i vegani, compreso me stesso, quando assumono creatina hanno un boost di prestazione molto elevato. Perché appunto è un nutriente che tende a scarseggiare e quando viene introdotto con l'integrazione si fa sentire. Io ho avuto apprezzabili risultati dell'integrazione di creatina. Poi se invece un mangiatore seriale di hamburger integra quella creatina non avrà questi grandi benefici, immagino. Poi, per carità, io ormai sono un vegano da talmente tanti anni che neanche mi ricordo come era il periodo in cui mangiavo carne. Integravo, sì, creatina. Avevo comunque, sì, dei vantaggi. In fin dei conti, è vero, anche da carnivoro, ora che ci penso, quando prendevo creatina avevo un certo boost. Alla fine forse non è neanche vero che da vegani si è così tanto penalizzati sulla creatina. Però, anche qua, non so dirvi con esattezza, quindi preferisco soprassedere. Per chiudere questo video, sì, da vegani si può avere tutta la B12 del mondo. Da vegani si può avere proteine con lo spettro amminocidico totale. Da vegani ci si può allenare duramente con i pesi e avere risultati apprezzabili. Come torno a dire, io sono più forte oggi da vegano che da ragazzo quando ero carnivoro. Questo è un po' il sunto del mio video. Volendo spaziare poi su altri argomenti, volendo proprio andare nel vivo delle questioni più scabrose, più pruriginose, io devo ammettere che ebbi sostanzialmente un problema quando passai vegan. Assieme a molti vantaggi, tra cui una pelle più bianca, brufoli spariti e quant'altro, digestione migliore, eccetera, eccetera, ebbi sostanzialmente uno svantaggio che non mi pesò affatto. Comunque ebbi un leggero calo della libido, o libido, che dir si voglia. Quindi io passai da carnivoro a vegano senza lo step intermedio del vegetariano. Quindi senza lo step intermedio vegetariano ebbi un po' uno scossone a livello metabolico. Quindi ricordo che per dieci giorni circa ebbi un calo della libido. Poi non è che fosse un periodo di attività sessuale frenetica, devo dire, non che oggi sì, però. Lì per lì non ci feci troppo caso, aspettai, mi disse, se va avanti così, torno a mangiare uova, carne, eccetera. Si vede che non posso fare a meno di cibi animali. Invece dopo dieci giorni, circa dodici forse, tutto ritornò a pressione. Il che mi ha fatto pensare una cosa, magari sbaglio, ma io penso che tutto quel grasso animale, quel colesterolo animale che veniva da uova, carne e pesce, abbia aiutato le mie ghiandole a sintetizzare più testosterone. Quando io gli tolsi questo supporto, le mie ghiandole furono costrette a produrrselo da sole, quell'eccesso di testosterone, insomma, che veniva da fuori. Questo mi è durato qualche giorno, qualche tempo, un paio di settimane al massimo. Poi le mie ghiandole hanno cominciato, per conto loro, a colmare questo gap. E come ho già detto, tutto è tornato a pressione. Questo è l'unico episodio che proprio, per essere proprio onesti, devo raccontarvi. Questa è la storia. Domando scusa se ti rimballo vicende personali, così magari insolite, però ci tenevo a essere chiaro, perché, insomma, io sono vegano per etica, volevo anche fare un resoconto che fosse onesto, senza ingannare nessuno. Parlando di integrazione, veganesimo, etica e quant'altro, c'è anche da dire un'altra cosa. Ecco, la cucina, ok? Uno può dire sì, l'integrazione da fanatici, l'integrazione da fissati, ma sarà anche vero, non lo so. Io la trovo molto comoda e la utilizzo, però posso capire chi abbia delle riserve. Parlando addirittura di cucina, parlando addirittura di piatti, pietanze, ristoranti, E' perfettamente chiaro che non può esistere un master chef vegano. E' perfettamente ovvio che Carlo Cracco o Bruno Barbieri non possono presentare menù vegani o imbastire un concorso di cucina vegano. La storia gastronomica di questo paese è fondata su carne, pesce e dessert che sono cucinati realizzati con ingredienti animali. La famosa razza chianina per produrre le bistecche, penso al pesce nostrano, penso ai dolci anche della gastronomia italiana. Quindi è chiaro che se si parla di gusto, è chiaro che se si parla di tradizione culinaria, la dieta vegana non c'entra nulla. E' una questione anche di farsi il palato. Io per esempio, per quello che vale la mia esperienza, oggi non riesco neanche più ad assaggiare le proteine di siero di latte. Mi sembrano tutte quante fatte con latte arancido, anche le più depurate, anche le più buone, perché sono abituato alle proteine vegetali. E ho provato ottime marche di siero, perché ogni tanto mi danno dei campioncini nel negozio integratori. Non dovrei ma li assaggio, vabbè. Poi parlerò anche in un altro video magari degli sgarri della dieta vegana per i principianti, eccetera, eccetera. Comunque sì, il palato lo si può anche educare in qualche modo. Poi se uno mi parla di ristoranti stellati, di guerre tra chef, di concorsi di cucina, lì il veganesimo c'entra poco, lo so. E non ha neanche tanto senso forse cercare di creare questi surrogati vegani che dovrebbero sostituire o rimpiazzare per esempio la carbonara. La carbonara vegana penso che non possa esistere, ecco, con tutto il rispetto. E lo dico da vegano, eh. Comunque questo è quanto. Un video così di riflessioni, spero di aver risposto a eventuali dubbi. Questo è quanto. Grazie per l'attenzione. Se ci fossero ulteriori postille, fatemi sapere. Alla prossima. Grazie. Grazie.